La nostra idea è sempre stata la stessa, come ho ripetuto più di una volta. Delle volte siamo riusciti a metterla in pratica per più tempo, altre volte gli avversari ce l'hanno impedito. E continuerà ad essere la stessa anche in questa partita, di cui conosciamo le insidie, ma sapendo quelle che sono le nostre qualità andiamo per fare la partita piena, per provare a ottenere il massimo, sapendo quali sono le caratteristiche che servono per ottenere il massimo. Domani è una partita importante perché affrontiamo una scuola che ci precede in classifica e anche se non sembra non ce ne sono tante per il momento. Questa è una di quelle e quindi noi vogliamo fare la partita per dimostrare a noi stessi a che livello siamo arrivati. Conosciamo le insidie della gara, ci siamo detti più di una volta che non esistono partite facili, altrettanto non esistono partite impossibili. Noi sappiamo che abbiamo le qualità per andare a giocare e voglio la squadra con una mentalità propositiva e offensiva che voglia dall'inizio alla fine cercare di portare a casa il massimo di quello che si può portare. Veniamo da un ciclo di partite disputate bene. Nelle ultime due purtroppo tutti quanti ci saremmo aspettati un bottino a livello numerico, di numeri superiore che non è arrivato, però credo che la modalità con cui sono state giocate, al di là delle difficoltà che abbiamo incontrato, non è tutta da buttare. Noi sappiamo quali sono le cose su cui dobbiamo continuare a battere e sappiamo soprattutto quali sono le cose da migliorare, perché soprattutto nella prima partita è stato un peccato non riuscire a ottenere il risultato pieno. Ma di questo abbiamo già parlato e riparlato. Ci proiettiamo su questa gara bella, difficile, importante e impegnativa, però crediamo tanto in quello che facciamo e domani vogliamo dimostrarlo. Nell'arco di una stagione così lunga ci sono momenti in cui uno è un giocatore più in forma, un giocatore meno in forma. Nel periodo in cui abbiamo inanellato una serie di vittorie vi siete tanto soffermati a parlare sulla posizione di questo giocatore. Sicuramente è un giocatore che ha dimostrato, credo, nella sua carriera di avere enormi qualità tecniche, ma di avere un margine enorme di crescita a livello psicologico. E mettergli tanti dubbi e tante pressioni sotto certi punti di vista credo non l'abbiano aiutato, però io sono convinto che è un giocatore che ci ha dato una grandissima mano e continuerà a darcela. A partire dalla partita di domani, anche se è uno tra quei giocatori che in questi giorni non è stato benissimo, l'abbiamo ritrovato solamente oggi per la rifinitura perché aveva ricevuto una botta domenica e non si è potuto allenare, così come non si è allenato oggi Isabelli per un problema che ha avuto stanotte. Così come stanotte è stato male con un virus intestinale petriccione e a differenza degli altri due non verrà neanche convocato perché è a casa con l'influenza. Così come avremo fuori Floro Flores, Gionberg, Morleo, Salzano e Economu. Una lunga lista che ho detto ai ragazzi assolutamente non dobbiamo prendere come un alibi, ma per noi deve essere una grandissima occasione per dimostrare che siamo un gruppo valido e che ha tutte le carte in regola per disputare una grandissima partita a cittadella contro una squadra che sta dimostrando di avere delle ottime qualità non solo da quest'anno. Sono contento delle qualità dei ragazzi che ho a disposizione, poi qualcuno è riuscito ad esprimerle tante volte, qualcun altro ovviamente non ha avuto tante occasioni, ma ci vuole il tempo per poterle dimostrare, ci vogliono le partite, e noi di partite sicuramente non ci mancheranno e sono convinto che chi in questo momento è un meno protagonista tornerà ad esserlo come lo siamo sempre stati durante l'arco della stagione, perché abbiamo una rosa composta da tanti elementi, perché in queste partite ovviamente si è ridotta tantissimo per via di qualche infortunio e indisponibilità e perché tutti quanti hanno le qualità per poter essere protagonisti, l'hanno dimostrato nell'arco di questa stagione perché siamo in una posizione di classifica che credo all'inizio dell'anno, a questo punto del campionato, ci avrebbe fatto comodo sapere di avere.